Una super farmacia del Tricolle torna a vincere. Al palacardito di Ariano, le ragazze di coach William Orlando spazzano via con il punteggio finale di 92 a 56 la compagine del High School Basket Lab. Dopo la sconfitta di domenica contro la Retail Galli San Giovanni Valdarno serviva la scossa, scossa che consolida le ambizioni delle ragazze del Tricolle. Con i parziali di 25 a 6 concesse le bricele al primo quarto alle ospiti, di 47 a 25, 67 a 38, la partita non è stata mai messa in discussione sin dalle prime battute. Un approccio rock ha permesso alle Ofitane di strappare due punti. Per quanto riguarda le statistiche personali, addirittura sono 5 le cestiste che vanno in doppia cifra. Top scorer la Zanetti con 17 punti, con 7 su 12 da 2 e una bomba su 2 tentativi. Tanta roba. Seguono la Orchi e la Fabri che mettono a referto 14 punti a testa, 13 per capitano Carolina Scibelli, quasi impeccabile sia dalla media che dall'arco dei 6,75 e chiude l'albanese con 12 punti. Adesso la farmacia del Tricolle sale al terzo posto in classifica con 16 punti di attivo, sognando un posto nei prossimi play-off ma soprattutto alle prossime Final 8 di Coppa Italia. E chissà se proprio Ariano sarà il pala sport della manifestazione tricolore.